I cartaginesi, una civiltà mediterranea tra commercio, cultura e guerra. I cartaginesi furono un popolo antico che prosperò nel Mediterraneo occidentale per oltre 700 anni, dal IX secolo anno corrente al 146 anno corrente, quando furono sconfitti dai Romani nella Terza Guerra Punica, la fondazione di Cartagine. Secondo la leggenda, Cartagine fu fondata da Didone, una principessa fenicia che fuggì dalla città di Tiro dopo la morte del suo marito. Didone arrivò sulle coste dell'Africa settentrionale e fondò una nuova città, che chiamò Cartadasht, che significa città nuova. La fondazione di Cartagine fu un evento importante per la storia del Mediterraneo. La città si trovava in una posizione strategica, all'incrocio tra le rotte commerciali che collegavano l'Europa, l'Africa e l'Asia. Cartagine si sviluppò rapidamente in un importante centro commerciale e marittimo, e presto iniziò a espandersi nel Mediterraneo occidentale. La civiltà cartaginese La civiltà cartaginese era una civiltà multiculturale, frutto del miscuglio tra la cultura fenicia e quella delle popolazioni indigene dell'Africa settentrionale. I cartaginesi erano un popolo abile nei commerci e nella navigazione, e svilupparono una forte marina militare. La civiltà cartaginese era anche una civiltà avanzata dal punto di vista culturale. I cartaginesi possedevano un sistema di scrittura, un sistema di leggi e un complesso pantheon di divinità. Cartagine era anche un importante centro culturale, e ospitava numerosi artisti, poeti e filosofi. Le guerre puniche Nel III secolo anno corrente, la rivalità tra Cartagine e Roma per il controllo del Mediterraneo occidentale sfociò in una serie di tre guerre, note come guerre puniche. Le guerre puniche furono una serie di conflitti sanguinosi e devastanti, che si conclusero con la sconfitta di Cartagine e la sua distruzione da parte dei romani. L'eredità dei cartaginesi La civiltà cartaginese ebbe un'influenza profonda sulla storia del Mediterraneo. I cartaginesi furono dei grandi commercianti e marinai, e contribuirono a diffondere la cultura fenicia in tutto il bacino del Mediterraneo. La sconfitta di Cartagine da parte dei romani segnò la fine di una grande civiltà, ma l'eredità dei cartaginesi continua ad essere sentita ancora oggi. Alcuni aspetti della civiltà cartaginese La religione I cartaginesi erano un popolo politeista, e adoravano un numero di divinità, tra cui Balammon, la dea Tanit e il dio Melkart. Balammon era il dio supremo di Cartagine, e veniva rappresentato come un toro. Tanit era la dea della fertilità e della guerra, e veniva rappresentata come una donna con le braccia incrociate. Melkart era il dio della città di Tiro, e veniva venerato anche a Cartagine. La politica Cartagine era una repubblica oligarchica, governata da un'assemblea di cittadini e da un consiglio di anziani. Il capo dello Stato era il sufete, che veniva eletto dall'assemblea. L'economia Cartagine era una potenza commerciale, e controllava una rete di rotte commerciali che collegavano l'Europa, l'Africa e l'Asia. I cartaginesi commerciavano in una varietà di prodotti, tra cui metalli, spezie, vino e olio d'oliva. La cultura I cartaginesi erano un popolo colto, e possedevano un sistema di scrittura, un sistema di leggi e un complesso pantheon di divinità. Cartagine era anche un importante centro culturale, e ospitava numerosi artisti, poeti e filosofi. La fine di Cartagine La Terza Guerra Punica si concluse con la sconfitta di Cartagine e la sua distruzione da parte dei Romani. La caduta di Cartagine segnò la fine di una grande civiltà, ma l'eredità dei cartaginesi continua ad essere sentita ancora oggi.